Il mondo è fatto da persone Il mondo è fatto da persone, se cambiano le persone cambiano il mondo se le persone sono rincoglionite il mondo è rincoglionito se le persone sono ribelli il mondo è ribelle noi diamo e prendiamo dal mondo tante volte che si parla delle rivoluzioni le persone rimangono spesso molto sorprese dalla parola rivoluzione ma la rivoluzione non la devi fare fuori, la devi fare dentro prima la devi fare dentro e poi forse ti puoi permettere magari il lusso di farla fuori e l'arte può aiutare in parte, non può fare tutto l'arte perché l'arte è un mezzo, non è Dio le canzoni per esempio, perché la musica presa così non fa tanta rivoluzione ma le canzoni sì, perché ci sono le parole e la parola ha un senso compiuto infatti la musica più ascoltata è la musica con i testi anche la musica classica perché fanno più concerti di opera e non di sinfonie? perché nell'opera c'è la storia parla, la Traviata parla, Don Bartolo parla, la Carmen parla, sta parlando le canzoni, per me per esempio le canzoni di Giorgio Gaber mi hanno cambiato cioè Giorgio Gaber diciamo, non so forse detta così è un po' pesante mi ha insegnato a pensare e tramite i suoi testi e il suo modo di dire le cose le canzoni di Pino, cioè le canzoni di Pino sono dei momenti della vita che tu te li ritrovi nel quotidiano ogni momento della tua vita potrebbe essere descritto da una canzone di Pino Daniele per me se la canzone ti parla di rabbia tu ti arrabbi c'è poco da fare facci caso, tutti gli inni nazionali hanno dei testi di merda perché? per fare una nazione tu devi procurare morte, sangue, saccheggi, violenza, violenze di tutti i tipi non li conosco tutti, anzi quasi nessuno ne conosco pochissimi di inni nazionali anche perché la nazione come concetto non mi piace proprio sono brutti perché parlano di violenza parlano di patriottismo sono sentimenti poveri secondo me